Bentornati, allora nella live di sabato vi avevo anticipato di un progetto che avevo in mente allora tra poche ore saranno comunicate a tutto il mondo le cinquine per gli Oscar 2024 e ovviamente anche quella della musica che poi sono quelle che ci interessano di più ora faccio la mia previsione di quella che sarà la cinquina finale rischiando ovviamente di fare anche una clamorosa figura perché potrei imbroccarne solo una parte o magari nessuno, anche se un paio mi sembrano francamente abbastanza obbligatori primo titolo che secondo me sarà in nomination Daniel Pemberton con Spider-Man Cross the Spider-Verse poi Robbie Robertson con Killers of the Flower Moon sul terzo avevo dei dubbi ma scommetto che il nostro amico John Williams porta a casa l'ennesima candidatura con l'ultimo film di Anna Jones poi Ludwig Goronsson con Oppenheimer che già parecchi mesi fa avevo vaticinato come almeno presente in cinquina quindi non posso che confermare ovviamente quanto detto nello scorso video e poi quello che potrebbe essere l'outsider Jerskin Fendrix con Poor Things bene tra poche ore sapremo se ci ho preso o se ho fatto una figuraccia nel frattempo però vi anticipo che appena sapremo la cinquina finale farò un video, mediamente un video la settimana su ognuna delle colonne sonore in cinquina di modo da approfondirla e di arrivare a marzo alla notte degli Oscar con le idee un po' più chiare in più farò un sondaggio appena uscirà la cinquina nel quale potrete scegliere voi qual è la vostra colonna sonora preferita di quest'anno non ho fatto invece previsioni per le canzoni perché sono come dire meno addentro al settore canzoni ancora che siano comunque una parte della colonna sonora per cui aggiornamento a più tardi